buonasera signore e signori ragazze e ragazzi stasera voglio parlarvi di kawasaki z 900 del 2022 il nome rimane quello della moto che kawasaki lanciò nel 1972 quando fu anticipata periodo in cui fu anticipata da honda che presentò nel 1969 il suo modello più celebre la honda cb 750 for che ebbe un successo planetario quindi kawasaki invece di lanciare subito la sua 750 qui in preparazione perfezionò la moto portando la cilindrata a 900 centimetri cubici lanciò sul mercato nel 1972 l'altrettanta leggendare kawasaki z 900 che ebbe allo stesso successo della honda l'attuale z 900 ha lo stesso carattere dell'originale una moto nuda dalle prestazioni esuberante cambia invece lo stile decisamente contemporanea dal super naked con dettagli estetici che la casa giapponese ama definire design su gomi e su gomi in lingua giapponese si può tradurre con un misto di significati come imponenza cattiveria e inquietudine la mitica kawasaki z 900 continua la sua produzione quindi anche nel 1900 scusate nel 2022 ed ha un motore a 4 cilindri in linea raffreddato a liquido una cilindrata di 948 centimetri cubici potenza massima di 125 cavalli a 9.500 giri al minuto mentre la coppia massima di 98,6 newton metro a 7.700 giri al minuto la distribuzione denominata dio hc double overhead camshaft sostanzialmente a doppio albero cam in testa 4 valvole per cilindro mentre sistema di alimentazione ed iniezione elettronica la strumentazione digitale a colori con tft ed ha un aspetto tecnologico alla moto le modalità full power low power consentono al pilota di impostare una differente erogazione della potenza a seconda delle sue preferenze o delle condizioni dell'asfalto e tanto che la modalità low power limita la potenza del motore del 55 per cento il telaio come si vede bene dall'immagine a traliccio in acciaio ad alta resistenza sospensione interiore formata da una forcella rovesciata da 41 mm così si vede bene con regolazione dello smorzamento in estensione del precarico della molla con la corsa della ruota di 120 mm al posteriore abbiamo invece un mano ammortizzatore si denominato backlink con regolazione dello smorzamento in estensione e del precarico della molla con la corsa della ruota di 140 mm freno all'anteriore formato da due dischi a margherita semiflottanti da 300 mm con pinza 4 pistoncini posteriormente presente un singolo disco a margherita 250 mm a pinza a singolo pistoncino la capacità del serbatoio di 17 litri il peso in ordine di marcia di 212 kg vanno a completare questa moto dall'aspetto molto sportivo e anche aggressivo che a me piace molto non è estrema come la z 1000 però ha un suo carattere ben ben definito è una estetica veramente molto gradevole bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto dislike iscrivetevi al canale attivate la campanella così sarete sempre aggiornati qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi ciao a tutti buona serata ciao 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 ciao